L'Artico e l'Antartico, due zone della Terra a migliaia di chilometri di distanza, luoghi suggestivi ma soprattutto interessanti per la ricerca scientifica, che punta a studiare ai due poli i cambiamenti climatici e la pressione antropica delle nuove rotte navali e delle nostre abitudini quotidiane. Di questo si è parlato nel corso di un seminario al Polo Marconi organizzato dalla sezione Spezzina di Atena. L'Artico e l'Antartico sono due zone la cui importanza sta crescendo per una serie di motivi, in parte legati ai cambiamenti climatici, quindi all'apertura di nuove rotte, la possibilità di sfruttare dal punto di vista minerario e oil and gas questi nuovi territori per il disgelo della tundra e per l'aumento delle nostre capacità tecnologiche. Le attività condotte in Artico dalla Marina Militare e dall'Istituto Idrografico partono dall'impresa di Umberto Nobile nel 1928 e arrivano sino alla campagna di geofisica marina Ike North 17, cui ha preso parte anche Roberta Ivaldi. Sicuramente l'importanza di queste ricerche è legata all'esplorazione di aree inesplorate o poco conosciute, volte sicuramente a contribuire alla conoscenza ma soprattutto a sensibilizzare un uso di un ambito così fragile. Ma l'Italia è coinvolta anche nella ricerca di un campione di ghiaccio risalente a oltre un milione di anni fa, scandagliando con il radar la carotta antartica nel progetto Beyond Epica finanziato dall'Europa. La ricerca con questo tipo di strumenti oggi è fortemente veicolata dalle indagini sul paleoclima, quindi i cambiamenti climatici, gli effetti dei gas serra, che hanno quello che si chiamano i proxy in termini scientifici, cioè hanno una registrazione unica nel ghiaccio dell'Antartide, perché è l'unico posto dove si può ricavare dell'aria fossile, che quindi contiene a livello di informazione il rapporto fra i gas serra e la temperatura, che sono molto importanti per quegli studi paleoclimatici. Il seminario rientra nel programma di eventi formativi organizzato da Atena e dal polo del distretto Ligure Tecnologie Marine con la collaborazione di Promo Studi. Le tecnologie marine, delle quali la zona della Spezia ha un sacco di rappresentanze di piccole aziende, di enti di ricerca assolutamente autorevoli, creare queste giornate con l'opportunità di mettere a fattore comune quelle che sono le conoscenze degli enti di ricerca, delle aziende del territorio, con il coinvolgimento dell'università, che poi è l'ambito nel quale crescono le nuove generazioni. Grazie.